I militari della stazione Carabinieri Forestale di Agropoli hanno accertato una gestione illecita di rifiuti. In località difesa del comune di Giuncano i militari hanno notato evidenze fisiche quali il colore delle acque ed esalazioni maleodoranti che lasciavano presumere lo sversamento di rifiuti nei canali di scolo e reggimentazione delle acque superficiali che recapitano poi nel corso d'acqua denominato solo frone. In particolare dall'ispezione di alcuni pozzi che attingono acqua dai canali e risalendo i canali stessi i militari coadjuvati dalla Polizia Municipale hanno individuato la fonte inquinante ed accertato che lo sversamento proveniva da un'azienda zootecnica all'interno della quale erano stoccati materiali destinati all'alimentazione delle bufale che percolavano nel vicino canale di scolo. I militari hanno provveduto ad interrompere lo sversamento prescrivendo e facendo realizzare l'impermealizzazione delle aree in cui confluiva il rifiuto hanno quindi denunciato a piede libero il titolare dell'azienda.